Un nuovo inizio per Ciociaria4 di Castelliri. Sono quattro le serate presenti nel cartellone estivo organizzate dall'Associazione Culturale e di Volontariato. Si comincia il 16 luglio in Piazza Marconi con lo spettacolo Va tutto bene del comico e attore Max Giusti. Domenica 17 luglio grande attesa per il concerto dei nomadi. Ad agosto altri due eventi, il 7 sempre in Piazza Marconi, le strade del gusto con un percorso enogastronomico ed il 21 agosto Ciociaria4 promuove il secondo concorso fotografico nazionale che ha come finalità la promozione e la conoscenza del territorio attraverso la fotografia. Le nostre quattro serate sono semplicemente un mezzo per poi arrivare a quello che è lo scopo finale che è quello della beneficenza. Ci abbiamo sempre creduto e ci crederemo sempre. All'interno della nostra brochure chi la leggerà potrà vedere tutte le attività che Ciociaria4 ha svolto anche durante il periodo della pandemia perché è vero le manifestazioni di piazza si sono fermate ma la nostra beneficenza no. Gli eventi sono stati patrocinati dalla Regione Lazio. Un cartellone bellissimo, soprattutto la voglia davvero di vivere un'estate nei nostri centri che è straordinaria, tanti giovani che si stanno adoperando perché si possa mettere in campo un grande progetto culturale di attrazione, un modo anche per valorizzare i nostri centri e creare una nuova aspettativa di natura economica. Un'associazione Ciociaria4 che merita anche il supporto del comune di Castelliri per quanto fatto negli anni e soprattutto durante la pandemia. Diciamo che noi abbiamo un debito verso questa associazione, infatti Ciociaria4 è stata vicina a noi nei momenti difficili della pandemia. Dovete sapere che infatti l'associazione non sono solo manifestazioni, musica e cabaret ma è anche tanto tanto volontariato sul sociale. Quindi mi sembra doveroso sostenere in ogni modo la manifestazione di Ciociaria4. Per fortuna abbiamo potuto riprendere questa fattiva collaborazione con l'associazione Ciociaria4 che non si limita soltanto all'estate, è una collaborazione che dura tutto l'anno. Siamo veramente felici e orgogliosi di ospitare di nuovo l'evento del Ciociaria4 e finalmente torna sulla grande scena, sul grande palco di Piazza Marconi con un programma estremamente vario e notevole, di notevole rilevanza. Grazie.